bene vediamo allora qualche turno a merv partendo dal secondo anno la situazione attualmente è questa dei vari spazi azione il punteggio è questo quella anche l'influenza favore cortigeni accorte abbiamo il giocatore giallo che sta salendo sulla moschea il giocatore rosso che si è buttato sui contratti e il giocatore azzurro sulle carte il primo ad agire è il giocatore rosso che decide di posizionarsi qui vuole attivare questa azione e costruisce qui un edificio perché ovviamente non ce n'è nessuno e ottiene una risorsa turchese ma noi la chiameremo tiffany quindi fa l'azione libreria che gli permette di spendere fino a quattro risorse diverse per ottenere delle pergamene ne ha solo una la spende ottiene quindi una pergamena è la sua quarta pergamena perché contano anche quelle che ha sui contratti e quindi può prendere una di queste tessere che essenzialmente fanno valere una risorsa come jolly e decide di prendere questa tra l'altro lui ha già una di queste tessere che gli sconta una risorsa quando fa questa azione per ottenere le merci tocca all'azzurro che è contentissimo che non gli hanno fregato questo spazio di azione perché si attiva tutti i suoi edifici ottenendo due risorse arancioni una risorsa beige e una risorsa viola sta attivando una di queste due tessere per fare l'azione carovana tra l'altro lui ha quel livello di influenza quindi può prendere fino a due carte diverse e queste sono le sue risorse deve spendere risorse uguali quindi queste per adesso non gli servono attualmente a queste due carte decide di spendere una risorsa per prendere questa carta dovrebbe essere il ginepro ed è la seconda carta diversa quindi può tenerla e prende ovviamente anche il cammello spende un'altra risorsa per prendere questa un'altra carta zenzero con tanto di cammello spende un'altra risorsa per prendere questa ed è la quarta carta con lo zenzero quindi può mettere un soldato e adesso vediamo dove metterlo spende un'altra risorsa per prendere la seconda carta ginepro che gli dà anche un punto favore il soldato decide di metterlo qui può farlo perché questo edificio non è protetto da questo lato siccome è un edificio di un avversario ottiene due punti di influenza ed ecco qua uno e due e adesso può ottenere fino a tre carte diverse e deve ottenere anche un favore e le carte ovviamente scorrono e se ne scoprono delle nuove bene la sagra della cannella al giocatore giallo che si mette in questo spazio e riattiva un suo edificio ottiene quindi una risorsa bianca che è una risorsa jolly una risorsa beige e una risorsa arancione grazie alla miglioria che ha messo su quell'edificio e attiva ovviamente l'azione della moschea quindi ora può salire sul tracciato della moschea e queste sono le sue risorse quindi deve dare una beige e una tiffany e ce le ha quindi si deve scegliere uno di questi bonus e decide di prendere questa tessera che gli dà la possibilità di ottenere tre punti vittoria per ogni edificio che ha costruito sulle azioni libreria e poi spende queste due di cui questa è jolly per salire qui e può mettere un soldato decide di metterlo qui per ottenere due influenza ora bisogna riorganizzare l'ordine di turno partendo dal giocatore rosso che dovrebbe occupare questo spazio lui non ha cammelli quindi andrà a occupare comunque quello spazio partendo quindi ultimo tocca al giocatore giallo scegliere non ha cammelli quindi indubbiamente andrà qui il giocatore blu va primo punto ecco qua tocca al giocatore blu quindi che decide di mettersi in questo spazio azione e attivare gli edifici del giocatore giallo facendo questa azione quella del palazzo tiene quindi una risorsa arancione e una risorsa jolly decide di mettere quindi un cortigiano a palazzo lo mette qui ottenendo anche un favore anzi sì no è un favore che gli dà anche un punto vittoria deve pagare una risorsa di queste tiffany ma pagherà una di queste perché il tiffany non ce l'ha tocca al giocatore giallo che decide di mettersi qui e di attivare questa azione attivando quindi gli edifici del giocatore rosso e ottiene quindi un viola e un tiffany e il rosso ottiene un viola decide di spendere una risorsa viola per costruire un muro qua e ottenere quattro punti influenza e ora anche lui può ottenere due carte carovana di tipo diverso e completare i contratti di livello 2 o meglio fino al livello 2 tra l'altro quando prima il giocatore blu ha attivato il suo edificio lui ha ottenuto una risorsa arancione e una risorsa bianca bonus tocca al giocatore rosso che si posiziona in questo spazio attiva questo edificio suo quindi prende una risorsa arancione una risorsa beige e decide di prendersi anche i cammelli dal mercato quindi fa questa azione mette un suo dischetto qui e ottiene un favore tra l'altro gli fa anche ottenere un punto vittoria quindi spende queste due risorse per prendere questa risorsa rara e utilizza questo sconto per prendersi questa quindi spende l'ultima risorsa che gli rimane per completare un contratto lui può ancora completare solo quelli di livello 1 e decide di completare questo che gli dà 5 punti vittoria intanto sopra ci deve mettere queste due pergamene una risorsa qualsiasi anzi una merce qualsiasi e può mettere un soldato e decide di metterlo qui questo lo fa avanzare di due spazi sul tracciato dell'influenza così adesso può completare contratti di livello 2 vediamo ora l'ordine di turno il primo a spostarsi è il giocatore azzurro che decide di mettere qui due cammelli per andare primo a tutti i costi tocca al giocatore rosso che decide di spendere un cammello per andare secondo e quindi riottiene un cammello il giocatore giallo andrà ultimo ma prenderà due cammelli e visto che ne era sprovvisto è contento il primo è il giocatore azzurro che si mette in questo spazio azione e attiva questa azione ottiene innanzitutto una risorsa viola una risorsa arancione un'altra risorsa arancione e una beige quindi va ad acquistare delle carte e adesso ne può ottenere fino a tre diverse anche se attualmente il mercato delle carte fa un po pietà comunque spende un'arancione per ottenere questa spende un altro arancione per ottenere questa e ottiene una risorsa bianca jolly spende un'altra arancione per ottenere questa spende una jolly per ottenere questa ed è la quarta quindi ottiene un'altra risorsa jolly che spende per ottenere questa tocca al giocatore rosso che decide di mettersi in questo spazio e mettere un edificio qui per fare l'azione libreria ottiene una risorsa arancione e una risorsa tiffany che in realtà spende per prendere due pergamene attualmente ne ha sei quindi può scegliere una di queste tessere vediamole un po' queste tessere sono one shot ovvero fanno fare un'azione con uno sconto di una risorsa che può essere quella carovana quella mercato oppure quella delle mura oppure quella della moschea e decide di fare questa che gli fa mettere un disco e prendere una risorsa senza pagare nulla lo mette qui ottenendo anche un favore e prende questa tocca al giallo che si mette in questo spazio attiva questo spazio azione per salire sulla moschea ottiene quindi una risorsa arancione una risorsa beige e una risorsa bianca jolly queste sono le sue risorse qui deve spendere una be anzi due beige quindi ovviamente faremo così queste due ottiene un punto vittoria e mette un cortigiano nel palazzo senza pagare risorse e ovviamente lo va a mettere qui poi deve spendere due blu e spenderà due blu due tiffany e spenderà un tiffany e un jolly ottiene due punti vittoria e un punto favore che gli fa ottenere anche un altro punto quindi spende queste due arancioni ottiene tre punti vittoria e può costruire un muro senza pagare decide di costruirlo qui di modo da ottenere tre punti influenza vediamo il nuovo ordine di turno il primo è il blu che decide però di mettersi in prima posizione tocca al giallo che decide di andare ultimo e il rosso andrà secondo il primo è l'azzurro che decide di mettersi qui costruisce un suo edificio qui ottiene quindi una risorsa tiffany e può prendere delle carte ne può ottenere di tre tipi diversi e queste sono le sue risorse questa se la conserva per dopo ne spende una per prendere questa il giocatore rosso si mette in questo spazio mette un edificio qui quindi ottiene una risorsa tiffany una risorsa beige e una risorsa arancione e tra l'altro può anche utilizzare il mercato e si prende una risorsa jolly quindi costruisce delle mura spende una risorsa tiffany per costruire un muro qui e ottenere due punti di influenza poi ne spende un arancione e decide di fermarsi così risolve comunque un contatto può risolvere fino a quelli di livello 2 decide di risolvere questo deve spendere una risorsa e spende uno di queste ci mette sopra le merci ci mette sopra la pergamena ottiene otto punti vittoria e può mettere un soldato e lo mette qui tocca al giocatore giallo che si mette qui posiziona un edificio qui ottiene quindi una risorsa viola una risorsa bianca jolly una risorsa arancione decide però di non spendere risorse per quest'azione vuole tenersi le risorse per pagare il riscatto adesso che ci sarà l'attacco dei mongoli ordine di turno il giocatore azzurro andrà ultimo perché poi non ha cammelli il giocatore rosso decide di andare secondo e il giocatore giallo andrà primo ora vediamo l'attacco dei mongoli loro essenzialmente attaccano i primi due edifici di ogni riga e colonna gli edifici che sono completamente protetti dalle mura sono salvi gli edifici che hanno i soldati sono salvi gli altri o si paga il riscatto o vengono eliminati allora questo edificio qui è protetto da questo muro ma qui non è protetto da nessuna parte e non c'è un soldato quindi il giocatore rosso dovrebbe pagare il riscatto di una risorsa arancione ma decide di non pagarla e questa ritorna nella sua riserva qui il giocatore giallo deve decidere di pagare una risorsa qualsiasi e paga proprio una risorsa jolly per questa paga una risorsa viola qui abbiamo questo edificio che è protetto dalle mura questo che è protetto da questo muro qui è scoperto ma c'è il soldato quindi non c'è problema qui abbiamo protetto dal soldato questi sono protetti dai soldati protetto da un soldato protetto da questo muro ma non da questa parte quindi il giocatore blu dovrebbe pagare una risorsa e la paga ben volentieri ovviamente del tipo prodotto questa è completamente scoperta e il giocatore blu paga questa è protetta da questo lato e da questo lato questa è scoperta e il giocatore rosso paga per salvarla questa qui è scoperta da questo lato il giocatore giallo può decidere di pagare una risorsa arancione o una risorsa beige decide di pagare un arancione queste qui sono entrambe scoperte il giocatore rosso non ha risorse da pagare e quindi le perde ora c'è la fase di punteggio innanzitutto il giocatore giallo ottiene tre punti per ogni edificio costruito sull'azione libreria e ne ottiene esattamente tre nessun altro ha quelle tessere quindi vediamo i punti qui nel palazzo il giocatore blu ottiene un punto per ogni carta carovana deve spendere però un punto influenza lui ha attualmente 12 carte quindi sono 12 punti il giocatore giallo che deve spendere due punti influenza ecco qua ottiene 9 punti per due ben 18 quindi si ottiene un punto per edificio sul tabellone il giocatore giallo ottiene 5 punti il giocatore blu ne ottiene 5 il giocatore rosso ne ottiene 3 tutti i soldati vengono poi rimossi siamo al conteggio finale dei punti allora innanzitutto il ponteggio attuale è il giocatore azzurro con 24 punti il giocatore rosso con 36 punti il giocatore giallo con 52 punti innanzitutto c'è il giocatore giallo che ottiene 3 punti per ogni edificio sull'azione libreria e abbiamo 3 6 e basta 6 punti e sale a 58 poi abbiamo i punti da qui dentro per poter ottenere punti bisogna spendere favore spendono tutti ovviamente 1 e 2 per il rosso e 1 e 2 per il giallo e l'azzurro l'azzurro ottiene 2 punti ogni carta e ne ha un po sono 42 punti e va a 68 il giocatore rosso ottiene 2 punti ogni merce rara e comune e sale da 36 a 46 il giocatore giallo ottiene 2 punti per ogni livello sulla moschea e sono 20 punti quindi va da 58 a 78 un punto per ogni edificio il giocatore giallo ne ottiene 6 e sale a 84 il giocatore blu ne ottiene 3 il giocatore rosso ne ottiene 4 a questo punto si contano i punti vittoria per i set di carte e le carte ce le ha praticamente tutte il giocatore blu perché ne sono rimaste tre lì per questo set ottiene 10 punti per questo set ottiene 6 punti per questo set 3 punti 3 punti 3 punti 3 punti e 3 punti per un totale di aspetta che faccio il calcolo 41 punti e passa da 71 a 115 vince questa partita il giocatore blu con 115 punti al secondo posto il giocatore giallo con 84 fanalino di coda il giocatore rosso con miseri 50 punti e questo è tutto ti ricordo che se vuoi puoi cliccare in alto e in descrizione per andare a vedere il video del mio parere se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti risponderò appena possibile e se ti piacciono i video che faccio considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica io sono flavio il meeple con la camicia e ci vediamo alla prossima